Doppio acquisto è proprio quello che hai sentito. Una svolta sorprendente nelle trattative di mercato. La Juventus ha messo gli occhi su due attaccanti dell'Everton per concludere un doppio accordo. Il primo giocatore è un profilo già noto alla Juventus e al calcio italiano. Beto, attaccante che ha giocato nell'Udinese, ha avuto un rendimento modesto all'Everton, ma in Italia ha lasciato una buona impressione. Ecco perché Motta vede nell'attaccante di nazionalità della Guinea-Bissau un'opzione di riserva ideale per Dusan Vlahovic. Un altro accordo che la Juventus sta valutando è, secondo me, più interessante, poiché sarebbe un trasferimento a costo zero. Con l'obiettivo di un trasferimento gratuito, la Juventus sta osservando l'attaccante inglese Dominic Calvert-Lewin, di 27 anni. Dominic ha ripetutamente rifiutato di firmare un nuovo contratto con Leverton. Quindi, con la situazione attuale, Leverton dovrà venderlo immediatamente. Dominic Calvert-Lewin è a Leverton da un decennio, avendo giocato 255 partite e segnato 70 gol per il club.